Cari fratelli religiosi laici, in assumere la funzione dell'ufficio che il Capitolo Generale mi ha affidato come Padre e Guida della Congregazione, voglio dirigere a tutti voi il mio saluto e dire in questo momento che veramente mi metto a servizio di tutti voi, carissimi fratelli. Ringrazio i confratelli per la fiducia che hanno deposto in me, ma conto molto sulle vostre preghiere e sulla vostra collaborazione. Riconosco di essere piccolo, limitato, ma conto più sull'aiuto del Signore, sulla protezione dei nostri Santi Padri Fondatori, sulla protezione di Maria in questo giorno in cui celebriamo l'Assunzione al Cielo di Maria e conto sulla vostra bontà, sulla vostra collaborazione e sulla vostra preghiera. Ecco, pregate per me, io prego per voi.